Ciao a tutti i miei Slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Siamoci tornati qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Perkos di Ski e Walk. Tra l'altro ci addentriamo in un periodo ricco di uscite, venerdì uscirà il disco di Easy e quello di THB e quindi preparatevi a un bel po' di reaction. Come dicevo oggi ascoltiamo Perkos, il primo singolo di Ski e Walk da artisti 777 Ant. Ebbene sì, la cosa era nell'aria già da un po' di mesi, ma ora è arrivata la conferma ufficiale. Ma in realtà non è il primo singolo sotto l'etichetta della Dark, perché un paio di mesi prima è riuscita Mafaresci, che se andate a vedere su Spotify è targata proprio 777 Entertainment. Tuttavia, ai tempi, la loro entrata nell'etichetta non era ancora resa ufficiale. Io onestamente non so come prendere questa cosa, non sono del tutto convinto. Perché facciamo un piccolo recap, l'ultimo singolo di Ski e Walk da artisti indipendenti è stato Poppin' Poppin', una canzone che non era tra le loro migliori, ma che comunque era forte. Ho fatto anche la reaction, spiego un po' anche chi sono loro due, quindi se ve la siete persi vi consiglio di recuperarla, la trovate in descrizione. Dopo ha seguito proprio Mafaresci, un singolo che personalmente non mi ha convinto per niente. Mi sembra che abbiano cercato di rendere hit il loro tormentone, senza però riuscirci granché. Dopodiché hanno collaborato nella Reloaded di Dark Boys Club, nella traccia con Wayne, ed è stata una canzone che non ho apprezzato per nulla. Proprio brutta da ogni punto di vista, poi ovviamente sempre a mio parere. Se ve la siete persi trovate anche la reaction a quella canzone e agli altri tre della Reloaded Edition in descrizione. E ora, eccoli tornati con Percos, questo singolo di cui onestamente ho già sentito parlarne molto bene. Quindi, se prima non avevo il proprio hype, ora sono un attimo incuriosito. La produzione è stata affidata a Dodd Make the Future, che poi è uno dei principali produttori che segue il duo. Quindi, senza perdere troppo tempo, io procederei con l'ascolto. Sono homos in tutta Italia, acqua che è bianca, è un panda, percos, è fatta. Ci sta, minchia. Bella, mi è piaciuta molto, mi è piaciuta molto First Listen. Beat che ricorda molto quelli UK Drill, una bella produzione di Dodd, veramente una manata. Loro due sopra ci stanno a rappare. Per certi versi mi ha ricordato molto Poppin Poppin, per come si alternano a rappare sia nella strofa che nel ritornello. Ho apprezzato molto anche gli EI, 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 sporca, abbastanza famosa e virale di Fabi Foreign. E io continuo ad impazzire per la voce di Ski, che c'ha un qualcosa che proprio mi attrae, cioè l'adoro. Ci siamo liberati del fare esci, che tra l'altro ora che ci penso non ho ascoltato proprio in questa canzone, almeno mi sembra di non averlo proprio mai sentito. E cercano di coniare nuovi termini e slang, tipo questo Ayoa, che non ho idea di cosa significhi. Però dubito che andrà quanto il fare esci, onestamente. Ecco, una cosa che mi fa incazzare loro, ma come loro vale per gran parte dei rapper. Allora, le cose le sapete fare, perché questa traccia è veramente una bella manata. Ma perché io poi devo sentire questa e ma fare esci, la canzone che è un qualcosa di... Io mi chiedo questo, perché quando volete fare le cose, le fate, però poi dovete fare anche della roba insulsa, che capisco che arriva un genere molto più mainstream, infatti i numeri di questa canzone non sono entusiasmanti. Comunque è uscita venerdì, oggi è domenica sera, l'una di notte, e ad oggi c'ha 50.000 stream, che comunque non sono poche, ma neanche troppe. Però ecco, io cercherei di calibrare meglio la qualità della musica insieme a quanto può vendere. Senza l'essere troppo ossessionati al vendere, che poi capisco, ci fanno i soldi, c'è chiama gli scemi. Però ricordiamo che quello che è importante è la musica, a mio avviso. Allora, calziamo a pennello, tra l'altro, perché l'ultimo video che ho fatto è la reaction a Rondo. Io non è che odio Rondo, come lui, qualsiasi altro artista. Semplicemente, se un artista non mi piace, lo dico, non faccio giri di parole, non mi invento reaction in cui faccio... Oh, che bomba! No, sono sempre cose molto genuine e spontanee. Quindi, vi dico subito perché questa canzone sì e magari Lobotend di Rondo da Sosa no. Lobotend di Rondo da Sosa è copiata pari pari. Questa è sicuramente ispirata e lo si può sentire dalle sonorità del beat e anche dagli EI EI EI, che sono una cosa stupida. Però comunque ti fa capire che loro si sono ispirati a un genere, a un artista in particolare per fare questa canzone. Ma sono rimasti Ski e Walk, perché sì, la differenza tra ispirarsi e copiare completamente è un filo sottile. Però bisogna essere bravi a non spezzarlo. E in questo caso Ski e Walk lo sono stati, a mio avviso. Per il resto, se io già li consideravo quasi persi, questo singolo mi fa avere ancora delle buone speranze. Però, per dare un giudizio completo e finale su loro due, bisogna aspettare un progetto ufficiale. Che ora non so effettivamente quando possa uscire, perché loro due non hanno ancora annunciato niente. Sono entrati da poco in 777 Ant, quindi vedremo. Voi cosa ne pensate? Il pezzo vi è piaciuto o no? Cosa ne pensate di Ski e Walk e della loro entrata in 777 Ant? Scrivetemi tutto questo qui sotto con un commento. Nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E se lo siete già, attivate la campanellina per non perdervi altre reaction e altri video. Noi ci vediamo con un prossimo video. Slap!